eccoci ragazzi siamo in diretta ok allora vediamo un attimo se si collega a qualcuno dunque intanto io metterei una musica ecco sentiamo com'è ciao a tutti buonasera ciao catia come stai tesoro allora come va ragazzi come state allora come sta andando questo agosto qualcuno di voi è in vacanza siete già partiti o siete ancora nelle città o nelle case di origine ciao sarah come stai come sta andando cara sarà spero che sia andando bene allora ciao romana che piacere vederti allora stasera io volevo parlare ho chiesto al creatore di che cosa su che cosa potevamo parlare stasera e intanto guardate che bella pietra che ho è un corso fumé non so se si vede è veramente molto ha dei riflessi del computer non si vede dentro ma dentro è proprio, ecco vede, forse si vede qualcosina qui di lato, è veramente magico questo cristallo, molto molto bello. Ciao Elga, ciao Francesca, ciao tesoro, come state? Allora, vi stavo dicendo che ho chiesto al creatore di che cosa parlare stasera, e il creatore, ciao Maria Concetta, e il creatore mi ha detto, mi ha suggerito di parlare dell'amore. Ciao Anna Maria, e in che senso dell'amore? Perché l'amore è veramente un argomento molto vasto, ma il creatore mi ha detto proprio di parlare dell'amore di coppia. Benino, sono contenta. Beh, insomma, benino è meglio che malino, dai Sara, eh, almeno questo. Davvero mi hai pensato Elga? Ah, sono contenta. Ok. Allora, dell'amore di coppia, perché? Allora, perché l'amore di coppia ha tante sfaccettature, e molto spesso noi abbiamo purtroppo un'abitudine, secondo me, che è quella del sogno. Ciao Riana, come stai? Bene Sabrina, sono contenta che ti piaccia il tema. Per chi è arrivato adesso, tipo Riana, Antonella, così, ripeto il tema della serata, ho chiesto al creatore quindi di che cosa parlare, il creatore mi ha detto parla dell'amore, proprio dell'amore di coppia. Oh, vedo che vi piace l'argomento. Ok, sono molto contenta. Allora, perché l'amore di coppia? Perché? Allora, stavo dicendo che molto spesso noi partiamo da un ideale dell'amore di coppia che è un po' sognato, da un ideale di sogno. E probabilmente è anche un po' come... Ciao Adele, buonasera. Probabilmente è un po' come... come siamo state un po' allevate, no? Adesso non so voi. però io mi ricordo che quando ero piccola le cose che potevo vedere in tv erano i film della Walt Disney. Adesso so che... Ciao Patrizia, so che non si usa più guardare questo genere di film. Però mi ricordo che io crescendo a pane e Walt Disney e le eroine dei film di Walt Disney, dai cartoni animati, eccetera, eccetera. Ciao Maria Pina. Sono cresciuta con questo ideale di relazione molto romantico, assolutamente, ma anche molto... molto come posso dire... non vorrei usare un termine forte, mi verrebbe da dire vittimistico. Però era un modello proprio di coppia in cui la donna era relegata, non so se vi corrisponde, ad un ruolo in cui aveva veramente poco margine di azione all'interno della coppia. Quindi tutte le eroine della Walt Disney in qualche modo vengono salvate dal principe azzurro. E qui siamo già completamente fuori dalla realtà, perché noi siamo cresciute, almeno io... facciamo così, parliamo per me. Io sono cresciuta, ma anche la mia mamma, perché anche la mia mamma andava al cinema e vedeva negli anni 50 questi film dove la donna attendeva che arrivasse l'uomo dei sogni a salvarla, no? E quindi siamo cresciute un po' con questo ideale, un po' sbagliato, di attendere quell'uomo che era veramente un principe azzurro e che doveva avere delle caratteristiche che erano assolutamente irreali e direi quasi anche banali, perché se voi vi ricordate un po' l'immagine di questo principe azzurro, è praticamente un uomo che è bello, forte, non lo so, è paziente, si innamora, si innamora per la vita al primo colpo guardandoci così e poi affronta tutti i pericoli del mondo, combatte contro i cattivi per venirci a salvare, è una figura un po' iconografica, no? E a chi assomiglia sotto 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 questo uomo? Assomiglia a un genitore, quindi è un po' la mamma o il papà, forse la mamma e il papà che ci è mancato, o forse la mamma e il papà che noi avremmo voluto avere, no? E questo è il primo inganno della relazione di coppia, ecco vedo che tante ragazze qui stanno dicendo, noi ci salvia, ciao bellissima Sara, ciao bellissima Barbara, stupenda Barbara, noi ci salviamo da sole, esatto, anche Gloria Mariani dice, nessuno ci salva, ci pensiamo da sole, ecco, no? E adesso faremo anche un appunto riguardo a questa cosa, perché è interessante vedere poi come si muove tutto il nostro inconscio, tu vedevi Mazinga, bellissimo, io vedevo Dytan 3, quando poi è arrivato Dytan 3, però il primo era proprio gigrobo d'acciaio, eh sì, e anche lì comunque c'era questo ideale di questo wow, di questo robot pazzesco che sconfiggeva tutti i malvagi, no? E anche questo è un messaggio che ci hanno fatto passare un po', adesso Dytan 3 mi ricordo che era lievemente più articolato come storia, però è come se noi fossimo state cresciute aspettando che, aspettando l'amore vero, quello vero, vero, vero e che non è detto che arrivi, eh e poi di Principe Azzurro ce n'è uno e tutti gli altri ne hanno 31, no vabbè scusate mi è andata una cosa, una scemata così, comunque questo papà e questa mamma che noi non abbiamo mai avuto e che magari ci facevano anche soffrire e che non ci capivano, venivano proiettati come un'ombra vita, eh sulla nostra parte bambina che invece aveva bisogno di crescere e soprattutto aveva bisogno di credere in qualcuno, aveva bisogno di sapere che qualsiasi cosa fosse accaduta, c'era qualcuno alle sue spalle che lo avrebbe aiutato, lo avrebbe supportato e soprattutto gli avrebbe spiegato la vita. Non sempre i genitori sono in grado di spiegare la vita, ahimè, questo forse lo abbiamo sentito sulle nostre spalle, ehm, o forse siamo state fortunate e abbiamo avuto dei bellissimi genitori, in tal caso chi ha avuto dei genitori fantastici, mh, ha meno problemi di coppia rispetto a una persona che ha avuto dei genitori difficili. Eh, ecco Elg, questo l'ho pensato anche io diverse volte nel corso della mia vita, per questo a mia figlia le faccio vedere poco dei cartoni della Disney, anche se, anche se devo dire che gli ultimi cartoni, soprattutto quelli della Pixar, hanno dei messaggi completamente diversi, non so se avete visto per esempio la famiglia di Invincibili, gli Invincibili che sono molto carini, oppure Monster & Co, Monster & Co è un film stupendo, ma veramente bellissimo, guardatelo perché comunque sono film anche per adulti. Poi c'è Coco, avete visto Coco? Coco è una costellazione familiare, stupenda, quindi i messaggi che vengono passati adesso sono molto diversi, sono molto più elaborati, attenzione, quindi la Pixar è veramente secondo me un buon cartone animato da far vedere ai bambini. Comunque stavo dicendo, questi genitori che non ci hanno supportato, hanno lasciato questo bambino un po' o non ci hanno spiegato bene le cose, non ci hanno fatto capire i nostri sentimenti, perché una delle cose più difficili secondo me è di capire veramente ciò che noi sentiamo e perché lo sentiamo e quindi dare un senso compiuto a quello che è il nostro relazionarci con la realtà. E anche questa è già subito una relazione, no? Ma se noi aspettiamo che qualcuno di esterno o qualche evento o qualche cosa di esterno finalmente arrivi a salvarci e quindi a prendersi cura di noi, vuol dire che questo meccanismo potremmo probabilmente a livello inconscio applicarlo anche agli eventi della vita. E quindi è come dire che io vivo la vita aspettando che un giorno veramente mi accadrà qualche cosa di molto molto bello, che potrebbe non essere proprio solo la relazione, vabbè la relazione probabilmente in questo contesto sarebbe l'apoteosi, ma potrebbe anche essere non so un lavoro migliore, piuttosto che finalmente vincere il gratta e vinci e così finiscono tutti i problemi della vita. O finalmente vendere la casa che tanto ci pesa e trovare una nuova casa, oppure che noi non sappiamo magari dove andare e finalmente ci arrivi un'illuminazione che ti dice il posto giusto è le praterie dell'Arizona in America e tu dici ah ecco me l'ha detto Dio. Allora badate bene che i nostri rapporti con la divinità, proprio perché la divinità è una rappresentazione del nutrimento, è una rappresentazione dei rapporti basilari, si modella a seconda di come sono stati i rapporti da bambini. Quindi se noi abbiamo vissuto aspettando che finalmente il papà ci volesse bene o ci guardasse o anche la mamma, probabilmente proietteremo anche questa dinamica su Dio. E quindi che cosa penseremo, come ci relazioneremo con Dio? Aspetteremo che Dio arrivi da noi e magari passiamo ore e ore e ore in meditazione o andiamo da tutti i medium, da tutti i cartomanti, da tutti i guaritori sperando che loro siano dei tramiti così potenti che finalmente ci diano la risposta per i problemi della nostra vita. Non è che noi non lo facciamo, ma è che un guaritore serio, un medium serio, un cartomante serio non ti dice che cosa ti accadrà domani o forse sì te lo dice, ma te lo dici in un contesto diverso, cioè ti dice prenditi la responsabilità di farlo accadere, è una cosa diversa. Allora in questo contesto ci si chiede sempre ma il futuro è predestinato? Comunque io sto leggendo il tuo futuro e te lo faccio conoscere prima di modo che tu possa viverlo meglio? Oppure sei tu, io sto leggendo le tue possibilità, le tue probabilità e quindi sei tu che hai la possibilità di far avverare questo futuro meraviglioso? Quindi il futuro te lo leggo o ti spingo a crearlo? Quindi sono due posizioni molto sottili che un po' si intersecano e una cosa, un bravo terapeuta, un bravo guaritore, un bravo operatore vi spingerà sempre a trovare le risorse dentro di voi per farcela da soli, a non creare dipendenza e soprattutto sarà una persona che sarà in grado di far emergere le difficoltà che voi avete e i motivi per cui voi avete sviluppato quelle difficoltà, perché non è scontato, non è scontato sapere perché noi abbiamo una difficoltà, perché una volta che sappiamo perché abbiamo una difficoltà riusciamo anche a creare una realtà differente e quindi darci un altro futuro. E adesso poi andiamo avanti sulle relazioni. Coco meraviglioso, vero Patrizia Meli? Anche per me è una costellazione familiare vivente. Coco Katia Damani, vera miglioso? Ecco. Cosa ne pensi di Lady Oscar? Già a dover nascondere la propria personalità e sessualità. Allora ti dirò Patrizia che io Lady Oscar non l'ho guardata perché non la capivo sinceramente, non la capivo e poi sentivo che c'era qualche cosa di ambiguo che era al di là del cartone animato, probabilmente era il primo modo di far emergere delle cose e però Lady Oscar era sempre sempre triste e probabilmente non piaceva neanche i miei genitori, ma secondo me i miei genitori non capivano neanche che cos'era Lady Oscar perché era un'idea molto avanzata se tu ti ricordi. Adesso stiamo andando nei ricordi. Antonella dice Goldrick, eh beh, l'uomo tigre, l'uomo tigre era bello, me lo ricordo anch'io, i miei amori. Poi c'era Terence di Candy Candy, ecco Candy Candy però io non la guardavo, io guardavo Bia che era una maghetta, genitori edifici separata e difficoltà nei rapporti di coppia presente. Ecco, adesso poi andiamo avanti a parlare della… ciao Daniela Caffari, Caffari, parliamo a parlare della coppia. Allora Lady Oscar comunque aveva un concetto un po' più articolato, quindi ovviamente per i tempi una persona di questo tipo non poteva mostrarsi, certo che adesso Lady Oscar sarebbe una persona tranquillissima senza nessun problema, però era già interessante anche il concetto, come dici tu, di doversi nascondere, no? Di non poter essere ciò che era e la profonda, il profondo senso di isolamento, di separazione che aveva Lady Oscar nei confronti di tutti gli altri. Ciao Carolina, ok, ciao Ilea. Per me era solo il desiderio di farmi una famiglia perché non ne avevo avuta e infatti, infatti, difatti, pare che noi andiamo proprio, lavoriamo in riparazione, cioè tendiamo un po' da una parte, è questo il doppio binario che ci fa poi incasinare, no? Perché da una parte noi tendiamo a riproporre il modello disfunzionale che abbiamo acquisito dai nostri genitori e quindi tendiamo a scegliere un uomo che ci farà soffrire esattamente come il papà ha fatto soffrire la mamma o viceversa. Ricordatevi che dentro di noi noi abbiamo la mamma e il papà, ma perché? Perché li abbiamo osservati tutti e due, quindi la trinità della relazione su cui noi dovremmo lavorare, che dovremmo andare a guarire, è come stava la nostra mamma nella famiglia, come si sentiva, se stava bene col papà, se non stava bene eccetera. Come e come trattava il papà e questa è una parte che noi abbiamo interiorizzato. Dall'altra parte come stava il papà con la mamma, come si sentiva, come stava in coppia, come la trattava e questa è la parte maschile che noi abbiamo interiorizzato. In più c'è un terzo elemento. Il terzo elemento è la coppia, cioè la relazione fra di loro, cioè dati questi due elementi, come è la relazione? La relazione è, non so, litigiosa, disfunzionale, la relazione è fatta di ripicche, di non detti, quindi di segreti che pesano, non lo dico perché se no la faccio soffrire o non lo dico perché devo mantenere la famiglia a posto o non lo dico perché se lo dico succede qualche cosa e vabbè spacco la famiglia. O non lo dico perché non mi fido che la persona che ho davanti sarà in grado di accettare, processare la realtà, la mia realtà, i miei sentimenti, le mie emozioni e farsi un piccolo esame di coscienza e operare una negoziazione. potremmo anche essere figli di due persone che magari prese singolarmente erano anche delle belle persone e avevano magari anche un bel modo di vivere, ma messe insieme non funzionavano e non hanno magari mai avuto il coraggio di separarsi perché ormai una volta sposati sono stati insieme. Anche questa potrebbe essere un'occasione di valutazione di quello che ci è accaduto, perché magari potremmo avere una sensazione di avere delle parti che sono belle tutte e due, ma non sapere come farle funzionare, non trovare mai la soluzione e quindi continuare ad autosabotarci. Quindi un primo diciamo, una prima scrematura per quanto riguarda i nostri rapporti potrebbe essere andare a guardare come vivevano i nostri genitori e andare a vedere che cosa abbiamo preso dell'uno, che cosa abbiamo preso dell'altro e di come si gestivano. Un suggerimento che vi do è questo, allora non dite, eh ma la mamma era aggressiva, io assolutamente non sono aggressiva. Ok, non ragionate così perché perdete gran parte del materiale emotivo che è una grande risorsa da analizzare per riuscire a crescere. Allora, se la mamma è aggressiva, anche io in qualche modo sarò aggressiva, da qualche parte. Magari non lo esprimo sempre, magari me lo tengo dentro o magari sono aggressiva con me stessa. Come? Potrei essere aggressiva con me stessa magari negandomi dei bisogni, negandomi delle piccole gioie, negandomi tante cose oppure punendomi costantemente se non raggiungo quel livello di evoluzione che mi sono messa in testa di raggiungere. Quindi anche come noi trattiamo noi stessi è proprio una fotocopia di come i nostri genitori ci hanno trattati e di come i nostri genitori trattavano loro stessi e si trattavano l'un l'altro. Quando noi andiamo a scardinare queste dinamiche, che cosa succede? Succede che usciamo dallo schema, usciamo dal paradigma e uscendo dal paradigma invece di impersonare con la persona, con il partner che noi attraiamo un po' la mamma oppure una volta la mamma e una volta il papà, riusciamo un pochino a cominciare ad essere noi stessi, cioè cominciamo a ragionare in modo diverso e cominciamo a vedere delle cose che quando noi siamo dentro nella dinamica è come se avessimo il paraocchi davanti, è come se avessimo un velo e non ha importanza quello che ci dice il partner che potrebbe avere ragione, è che noi proprio non lo vediamo, non lo vediamo, non lo sentiamo e andiamo avanti con la nostra idea e siamo convinti che il partner ci dica una certa cosa e non è vero, perché magari il partner ci stava dicendo un'altra cosa, ma noi siamo convinti di questo, continuiamo a proiettare questo e ahimè il nostro partner ne fa le spese, perché questo purtroppo è la realtà. Quindi guarire significa uscire dal partner della nostra famiglia, dai nostri genitori e cominciare ad escogitare delle nuove metodologie per rapportarci alle persone, permettere a noi stessi di conoscerci al di là di quello che ci hanno detto i nostri genitori e di conoscere anche il partner in un modo diverso. Allora in questo caso qui succedono dei miracoli, succedono delle cose molto belle, vale a dire potrebbe essere che la nostra relazione cambi completamente, perché comunque noi non proiettiamo più le nostre ferite, proiettiamo un desiderio, una volontà di guarire e il nostro partner ne è colpito e potrebbe cambiare anche lui, potrebbe decidere di comportarsi in un modo diverso, potrebbe finalmente sentirsi a suo agio nella relazione, invece che sentirsi sempre criticato in un modo strano e potrebbe cambiare, oppure potremmo attrarre dei partner diversi e potremmo veramente cominciare a vivere un'altra vita. Grazie Imo, grazie Simona. Allora aspettavo, sogniamo un certo momento, poi mi sono bloccata. Ah ecco vedi, esatto Giussi. Allora l'attesa, uff, eh sì. Ma i desideri fanno vedere sbagliato, perché proiettiamo i nostri bisogni e non vediamo la realtà. Esatto no? Questo e questo lo stavo dicendo, e perché Adele i desideri fanno vedere sbagliato? Perché noi proiettiamo i nostri bisogni non vediamo la realtà, perché bisogna vedere se il desiderio che noi abbiamo è un desiderio reale o è frutto di un irrisolto del nostro passato. Quindi se io desidero una cosa a tutti i costi, perché quando ero piccola non l'ho avuta, sto seguendo un mio bisogno, sto seguendo un desiderio che mi è rimasto qua, che mi è rimasto irrisolto, che mi ha fatto talmente tanto soffrire, che è diventata una ferita profonda e io ho bisogno di realizzarlo e non è detto che questo sia il desiderio che mi fa felice. Potrebbe essere che una volta che io l'ho realizzato poi mi rendo conto che non lo volevo veramente. E allora lì cominciano le incoerenze, no? Spesso spinge a crearlo, non tutti si cerca di far diventare, ma non tutti si fa diventare indipendente. Coco Fantasco, sì. Meravigliosa interpretazione all'argomento, Sara, grazie. Bene, sono contenta. Ciao Michela. Ciao Sara. A me piaceva Heidi. Heidi, giusto? Heidi sì, era carina. Una storia un po' triste, è quella di Heidi, però... Allora, non mi sono persa neppure una puntata. Ti ricordi il cartone animato, Sara? Quale cartone animato? Perché me ne ricordo tanti, ma quale intendi? La mamma di Sara era morta. Quale? Ma stai parlando di un cartone animato? Quale? Non me lo ricordo. Infatti, altra curiosità, nei cartoni o film cartoni in genere sono sempre le mamme a morire e abbandonare i figli. Eh già, è vero Katia, hai ragione. Eh sì, sono sempre dei bambini abbandonati, dei bambini che hanno un sacco di difficoltà. Però naturalmente sono rappresentati, anche in senso simbolico, sono rappresentate le nostre mancanze. Non è detto che una mamma debba essere morta perché faccia sentire la sua mancanza. Molto spesso la mancanza assordante di una mamma è quando è presente, ma non è presente nella relazione. Quante persone sono in relazione ma sono assenti emotivamente nella relazione? E allora la loro assenza diventa ancora più pesante, ancora più forte da digerire. Ed è un dolore enorme perché è come avere davanti una torta al cioccolato e non riuscire mai ad allungare la mano e a metterla in bocca. E diventa difficilissimo. Allora, paradossalmente io ho avuto un bel esempio di coppia con i miei genitori, ma crescendo per me è stato difficile sganciarmi da quel modello per crearne uno mio, con le mie caratteristiche. C'è avuto molto tempo per affermare me stessa. Ecco, è molto interessante quello che racconta Barbara, no? Perché dice, anche questo è buffo perché molto spesso accade che noi ci facciamo fermare anche dai modelli positivi. Cioè, vale a dire, dipende poi da come sono trattati i modelli positivi. Perché, allora, un modello positivo in sé per sé potrebbe essere un limite quando viene, come dire, enfatizzato come perfetto. Se un genitore si accorge che un bambino si sente intimorito dall'amore perfetto, tra virgolette, io utilizzo questa terminologia, tra i due genitori dovrebbe incoraggiare il figlio perché altrimenti lo fa crescere con un forte senso di inferiorità e con un forte senso di incompetenza. Non so se un esempio classico potrebbe essere magari i figli d'arte, no? Non lo so. Immaginatevi i figli di Madonna. Madonna ha un tale successo o un figlio di Bill Gates, non lo so. Sono personaggi che hanno un tale successo che eguagliarli o comunque avere successo nella vita diventa veramente difficoltoso, no? Ma chi lo sa che cosa hanno insegnato questi genitori e i loro figli? Chi lo sa se li hanno spinti ad essere se stessi dicendo se ce l'ho fatta io ce la puoi fare anche tu? Oppure se per colmare un loro, diciamo, una loro mancanza di affermazione nel mondo, una loro ferita interiore di quando erano piccoli, hanno utilizzato il loro successo come status per apparire finalmente vincenti e vincenti su tutto. Perché chi appare, chi ha bisogno di essere vincente e vincente su tutto, va di bene che potrebbe inficciare il rapporto con i figli? Perché potrebbe essere vincente anche davanti a un figlio. Allora essere vincente davanti a un figlio è una posizione scomoda, è una posizione che ci limita moltissimo. Quindi una persona che è veramente vincente non è una persona che ha una relazione perfetta, che ha un lavoro perfetto, che ha il successo più grande del mondo. Una persona vincente è una persona che sta bene con se stessa e quando una persona sta bene con se stessa non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno, non ha bisogno di essere soddisfatta nei propri bisogni, non ha bisogno di essere supportata, aiutata, compatita, invidiata, non ha bisogno di tutte queste cose e quindi vive tranquillamente e serenamente. E allora la forza di questa persona emerge, traspare. E allora un figlio non si sente intimorito da un genitore di questo tipo ma si sente ispirato. Quindi se noi intimoriamo le persone o i clienti o il nostro partner e abbiamo l'abitudine di dirgli che lui sbaglia, probabilmente stiamo proiettando una nostra ferita. Allora andiamo a vedere perché abbiamo bisogno di essere così davanti al nostro partner e chiediamoci, io ho bisogno di sentirmi brava o comunque sentirmi vincente davanti a chi? Forse davanti a mio padre perché mio padre non mi ha mai fatta sentire una persona vincente o davanti a mia madre perché mi ha sempre umiliata o è sempre andata in competizione con me e quindi non mi faceva emergere. E allora io lo sto facendo vedere a mio figlio ma in realtà inconsciamente io lo sto facendo vedere a mia madre e lo sto facendo vedere a mio padre e ho bisogno di rivalsa, ho bisogno di rivincita. Allora il nostro partner ci può riportare tantissime dinamiche che noi abbiamo. Mi ricordo sempre che Jung dice quando l'amore è vero fa emergere l'ombra, no? Quando una persona ci ama su serio e ci fa battere il cuore ci fa emergere l'ombra e potrebbe anche essere che noi per guardare tutta l'ombra che sta emergendo da noi ci mettiamo anni, anni. Potrebbe essere che noi abbiamo delle relazioni intense, profonde, meravigliose che ci fanno veramente, ci fanno, non so come dire, ci fanno battere il cuore e abbiamo un'appassionalità fortissima con queste persone e sentiamo che le amiamo alla follea e non riusciamo a stare con queste persone perché il dolore che ci procurano è troppo forte. Non so se vi è mai successo. Allora la domanda che vi rivolgo è questa, vi è mai successo? Avete mai provato una relazione di questo tipo? Intanto leggo le vostre domande, i vostri commenti. Allora Giuseppina, io mi sono resa conto che mi sono sposata con un uomo che mi dava cose che mia sorella non riusciva a dare, poi ho valutato che anch'io ero messa come mia madre che gestiva tutto lei, mio padre lasciava fare tutto mia madre e mio marito uguale. Quando ho deciso di separarmi, mia madre ha detto che dovevo fare come ha fatto lei, io non ho accettato. Lei ha iniziato a stare male, è finita il punto soccorso per pressione alta. Bene, quindi mi stai dicendo che sei uscita dallo schema. Brava, sono contenta Giuseppina. Sei riuscita a resistere davanti al dolore di tua madre? Perché molto spesso le madri o il partner fanno questo genere di ricatti, ci ricattano con il loro dolore per dire se non fai come come vorrei io che tu fossi, se tu non sei come io vorrei che tu fossi, guarda che io soffro a tal punto che vado in ospedale e questa cosa ci mette veramente con le spalle al muro. Allora Barbara, mio marito è rimasto talmente colpito dai miei cambiamenti che ci siamo lasciati. E meno male. Bene, allora questa relazione non era la relazione della vita. Ok. Principessa Sara, sai che non l'ho visto questo, non l'ho proprio visto questo Ilaria, questo cartone animato non l'ho visto. Renzi la strega. Cavoli, non ho visto neanche questo Emanuela. Porca miseria me le sono perse. Lovely Sara. Allora, mia madre è presente ma non amava. Ecco, quindi stiamo parlando, parlavamo Mulan. Ah che bello Mulan, Mulan mi è piaciuto tantissimo. mio marito era assente, ecco Adele. Anche il mio, ti dirò, il mio primo marito era assente. Io un giorno dissi a mia madre, io sarò come Liz Leilor, otto mariti, non so perché gliel'ho detto, forse in qualche vita precedente l'ho fatto. O forse le stavo mandando un messaggio tale per cui se la relazione non va, non va, non va, o si cambia nella relazione e quindi per forza necessariamente quando noi cambiamo nella relazione e abbiamo il coraggio di farlo, l'altro si deve riposizionare in qualche modo, ok? Quindi ci vuole coraggio. Vero, madre assente nella relazione. Eh sì, perché un conto è essere assenti fisicamente, ma un conto è essere assenti nella relazione, non darsi alla relazione. Ciao Giuseppina, tesoro. Buonasera a tutti, Mara. Sì, è successo. Ecco, Giuseppina, stavamo dicendo di quelle relazioni complesse, no? Allora, Ilaria. Io sono sposata da 18 anni, non credo che lui mi potesse amare veramente. Ma sei ancora sposata, Ilaria? Io non ho capito bene la domanda. Ok, allora adesso ve la ripongo, eh. Allora, a me sì è successo, sta succedendo ancora, amo profondamente un uomo, ma ci sono contrasti tra noi anche se ci amiamo. fa emergere l'ombra. Mia madre non accetta nulla di me ed io con lui a volte anzi spesso sono insicura. Oh, chi di cui la strega Carabà? Eh eh eh, bello. Chi di cui la strega Carabà è bellissimo. Ok. Oh, Gloria. Allora, Ilaria, ripeto la domanda. No, scusa, chi è che non ha capito? Alla Elga. Allora, ripeto la domanda. Vi stavo chiedendo se per caso vi è capitato di avere o siete in una relazione che è profondissima, in cui voi sapete che vi amate moltissimo, ma non riuscite a stare insieme perché ci sono delle grosse difficoltà relazionali. Allora, Gloria per esempio dice, sì a me è successo, amo profondamente un uomo, ma ci sono contrasti tra noi anche se ci amiamo. Fa emergere, mia mamma non accetta nulla di me ed io con lui a volte anzi spesso sono insicura. Oh, allora vedi Gloria che tu inconsciamente mi hai già dato degli spunti per vedere la situazione. Cioè tu dici, mia mamma non mi accetta. Quindi qual è lo schema, banalmente parlando in modo molto semplice, qual è lo schema che Gloria ha, come dire, assorbito dalla mamma? Che siccome la mamma non accetta nulla di lei, Gloria non è abbastanza. Gloria non ha potuto nella sua infanzia, da quando era piccola fino ad oggi sviluppare la certezza, la sicurezza e la stabilità che dà la fiducia di essere accettati. La fiducia che noi andiamo bene così come siamo e da lì in poi, da questa fiducia, da questa certezza in poi, una persona è in grado, in questo modo, di essere se stessa e di far emergere tutti i propri talenti, di comportarsi nella coppia in modo spontaneo, naturale, sapendo che non verrà giudicata se ride a delle battute, se fa delle battute così. Ma magari siccome è nella dinamica della mamma e rivive la dinamica della mamma con questo uomo che magari, Gloria, magari questo uomo ti accetta assolutamente, ti ama e ti accetta così come sei. Ma siccome a te non è stato permesso da bambina di sviluppare questa certezza in te stessa dell'accettazione, hai paura e continui a proiettare su di lui probabilmente tu non mi accetterai. Perché siccome il primo amore vero che ho avuto è stato un amore di non accettazione, non ho nessun motivo per pensare che se una persona mi ama sul serio mi accetterà. Perché non l'ho sperimentato, non ho proprio il file. Adesso, Gloria, questo file se vuoi lo inseriamo e lo inseriamo in tutti coloro che lo vogliono prendere. Perché è molto importante. Allora voi dite, ma allora io come faccio ad avere una relazione soddisfacente? E ragazze, si lavora, si lavora, no? Perché quando noi proiettiamo una nostra dinamica infantile sul partner, il partner poverino non ne ha la più pallida idea di che cosa stiamo vivendo noi. E magari lui è lì bel tranquillo che si sta facendo altre cose e poi scattano i drammi e lui non se lo aspetta minimamente. E poi andiamo a litigare e roviniamo qualche cosa di bello, qualche cosa che magari potrebbe essere bello. È chiaro che in una situazione con tante dinamiche attraiamo una persona che risuona con queste dinamiche, che potrebbe avere le nostre stesse dinamiche. E allora andiamo in risonanza, no? Quindi come sei insicura tu, Gloria, magari è insicuro anche lui. E quindi magari lui si fa lo stesso problema, dice chissà se Gloria mi accetterà, chissà se io posso essere esattamente ciò che sono davanti a Gloria. Magari neanche lui ha avuto questo dono, non ha avuto questa possibilità da bambino di sviluppare questo. Se non lo abbiamo fatto da bambini, lo possiamo fare da adulti, c'è sempre tempo. Allora Ilaria, sì sono ancora sposata ma non mi sento amata anche se lui fa tutto per me. Ecco, allora, il punto è perché non ti senti amata anche se lui fa tutto per te? Se tu dovessi rispondere di pancia, Ilaria, che cosa mi diresti? Proprio di pancia. Giussi, ho un ex amico che ogni volta mi faceva stare male, uscivano ferite antiche fino a quando mi sono allontanata, ma comunque ci vediamo di tanto in tanto. Ecco, probabilmente non è finita la lezione con questo uomo, probabilmente c'è un'attrazione forte che vi fa ritornare in sintonia, che vi fa riprendervi l'uno con l'altro, ma non avete ancora capito qual è il nodo da sciogliere. Allora, allontanarsi uno ci prova, ma non funziona. Come dire, no? Come quando noi diciamo, ah quella persona è talmente antipatica, odiosa che io la taglio fuori dalla mia vita. Non funziona. Funziona con magari uno o due, ma non con tutti. Non con tutti. Se quella persona vi stava facendo emergere qualche cosa che era vostro, ritornerà. Voi la fate uscire dalla porta e lei rientra dalla finestra e continua a riproporvi lo stesso schema, la stessa antipatia, lo stesso dolore e le stesse cose. Oppure arriverà un'altra persona con cui vivrete le stesse identiche cose, finché non avete capito. Esatto, non sono abbastanza. Ecco Gloria. Allora, Icia. Mi hai già risposto mercoledì. Le risposte super esatte. Ora vorrei sapere se mio marito abbatterà il muro che ha costruito il verso di me. Grazie Sara. Vediamo. Sì, lui mi ama, ma io non riesco a vederlo. Io, no, lo lascio per non farmi lasciare perché ho paura dell'abbandono. E infatti, Patrizia, a me succede sempre, la mia mamma dice che sono la piccola nella famiglia, che mio fratello è il perfetto, mi mette sempre in competizione con mio fratello. Ecco. Allora, questa dinamica qui, cara Patrizia, io spero che tu non la vivrai mai, però questa dinamica qui, quando due persone competono per l'amore della mamma, quando due fratelli competono per l'amore della mamma, che cosa possono creare in una relazione? Possono creare la presenza di un terzo incomodo e cioè, vale a dire a Patrizia, che tu potresti avere un compagno o un marito che a un certo punto si presenta con un amante. E allora tu riproponi lo stesso schema dell'infanzia, la competizione con la donna per l'uomo. In questo caso l'oggetto d'amore, no? Quindi la competizione per l'oggetto d'amore, finché l'oggetto d'amore deciderà chi è il perfetto, chi è il meritevole. Quindi bisogna uscire da questi schemi. Non sono abbastanza, sono una perdente, dice Ilaria. Ecco, questo è quello che dici tu, questo era il motivo, no? Ok. Giuseppina, io adesso finalmente ho una relazione, questo è quello che pensi tu, Ilaria, intendo dire, questo è quello che ti è stato passato, ok, nell'infanzia. Va bene. Giuseppina, io adesso finalmente ho una relazione soddisfacente. Da quando ho deciso di essere in equilibrio con la mia parte femminile, ho incontrato un uomo che mi fa sentire donna. Oh, meraviglia, sono molto contenta, Giuseppina, grazie della testimonianza. Elga, sì, sono in una relazione vera che mi ha cambiato in positivo, facendomi emergere la mia miglior versione anche da parte sua così, ma complicata perché c'è la lontananza. Entrabbi abbiamo avuto un'infanzia con dei genitori assenti. Ecco, anche qui Elga, vedete, che probabilmente a livello inconscio o forse sapendolo ha già dato una chiave di lettura, la lontananza, esatto. Allora, i genitori sono assenti, quindi qual è lo schema genitoriale di Elga? L'assenza, la lontananza. E quindi che cosa ripropone? Un bel rapporto con una persona stupenda che l'aiuta a emergere, ma ripropone la lontananza. In questo senso la ripropone fisica, non la ripropone emotiva, ma fisica. E anche qui ci si può lavorare. Emanuela, dopo una storia di cinque anni e dopo un anno dalla rottura con lui, ho paura di aprire il mio cuore. Mi basta fare l'infermiera. Allora, non a caso, ciao Slavi, piacere di vederti. Allora, non a caso, Emanuela, tu stai facendo l'infermiera, perché l'infermiera è un mestiere in cui la relazione di aiuto è molto, molto presente. Quindi, che cosa fa un cuore che ama? Un cuore che ama, che si è chiuso, è comunque un cuore che continua a volersi amare. Quindi, se non la fai uscire di lì, la dinamica la fa uscire da un'altra parte. Quindi, è come dire, io non riesco a dedicarmi ad una persona singola e allora comincio a dedicarmi a tante persone. Potrei chiederti anche se tua mamma aveva bisogno di aiuto, se tua mamma era una persona che ti chiedeva aiuto o chiedeva aiuto. Magari non a te, ma chiedeva aiuto al papà. Molte delle relazioni di aiuto provengono da bambini che hanno avuto dei genitori che hanno chiesto ai bambini di prendersi cura di problematiche familiari, di problematiche loro, che non riuscivano a risolvere e che ovviamente proiettavano sui figli. Allora, molti terapeuti provengono da un'infanzia così, da un passato così. Però la bella notizia è che attraverso tutte le metodologie con cui possiamo guarire, possiamo letteralmente cambiare il nostro, la nostra infanzia, riscrivere la nostra infanzia e proiettarci verso un futuro diverso. Quindi trovare un uomo che sia presente per noi o una donna che sia presente per noi. Giussi. Allora, brava, abbiamo lezioni, ecco Emanuela, vedi? Sì, assolutamente, quindi non andiamo molto lontano, no? Abbiamo lezioni ambole parti da imparare, ma vorrei capire meglio la mia. Ok, sono in una bella relazione sana con tanto amore. Dopo il divorzio da entrambi con i figli, ma con la difficoltà della lontananza, riusciremo a trovare una convivenza? Grazie. Allora, adesso cominciamo con le domande. Allora, mancano dieci minuti, va bene. Allora, intanto cominciamo a fare un po' di inserimenti, perché vedo che... Allora, facciamo degli inserimenti generici. Facevo la terapia per i miei, esatto, Emanuela, vedi? E questo l'ho proprio percepito, era molto chiaro. Allora, vediamo un attimo. Dunque, intanto posso chiedere al creatore di tutto ciò che è di insegnarvi e ricordarvi che voi avete già imparato che cosa significa diventare uomini e donne adulte senza bisogno che imitiate, senza bisogno che ricreate nella vostra vita le dinamiche familiari o i dolori o i blocchi, che avete appreso dai vostri genitori. Posso? Seconda definizione è comprensione verità e prospettiva del creatore di tutto ciò che è. Con grazie e facilità per il nostro bene supremo. Grazie, fatto e fatto e fatto, mostrano. Posso chiedere che il creatore vi ricordi che vi insegni e che voi sapete come fare a vivere comprendendo il dolore dei vostri genitori, comprendendo il dramma dei vostri genitori, vedendo la verità relativamente al dramma dei vostri genitori, senza bisogno di farvi carico di queste emozioni. Posso? Seconda definizione è comprensione verità e prospettiva del creatore di tutto ciò che è. Quindi chiediamo che il creatore discrei, voti, patti, giuramenti, incantesimi, maledizioni, patti di sangue che ci impongono di credere che noi dobbiamo farci carico del dolore degli altri per essere amate o del dramma degli altri, per essere amate o per dimostrare l'amore. Con grazie e facilità per il nostro bene supremo. Grazie, fatto e fatto e fatto, mostrami. Che noi possiamo continuare ad amare i nostri genitori, capire i nostri genitori e nel contempo vivere una, vivere la nostra vita, la nostra vita serena e una bella relazione di coppia. Con grazie e facilità per il nostro bene supremo. Grazie, fatto e fatto e fatto, mostrami. Ecco. Allora, ditemi se vi sentite un po' meglio. Allora, Erika, in che modo si esce da ripetere gli schemi familiari? E poi ho letto la domanda. Allora, in che modo si esce? Riconoscendo che lo schema familiare che stiamo ripetendo con il nostro partner è lo stesso che abbiamo vissuto in precedenza e ho fatto qualche inserimento, Erika, io spero che tu l'abbia preso. E, allora, sganciando questa dinamica, guardandola in faccia, provate. Io, ovviamente, il mio metodo è il teta. Il teta healing, le costellazioni familiari, eccetera, eccetera. Quando faccio sedute private in un'ora, un'ora e mezza, si riesce a cambiare tantissimo. Le relazioni cambiano. La mia relazione in sei anni è cambiata in un modo esponenziale, quindi, ma sono cambiata io all'interno della relazione. Quindi, queste vecchie dinamiche adesso non fanno più parte della mia vita e le vedo molto bene, ma se voi volete cominciare anche a fare qualche piccolo lavoro interiore, fate così. Allora, questa dinamica che voi avete dietro le spalle, prendetele e mettetevela davanti. Esempio, facciamo l'esempio con Erika. O con Patrizia. Allora, Erika si mette davanti la persona che aveva problemi di soldi e Patrizia si mette davanti la mamma che la obbliga a competere con suo fratello. La guardate e le dite, cara mamma o cara persona, io ti capisco, ti comprendo, ho fatto tutto il possibile e adesso lascio andare questa dinamica e la lascio a te. Ok? E immaginate che esca da voi e entri nella mamma. Guardate bene che la mamma non diventerà fragile guardando questa dinamica che voi gli sganciate, ma diventerà ancora più forte. Quindi quando voi lasciate andare questa cosa e la fate entrare di nuovo nella mamma, vedrete la mamma diventare una persona meravigliosa in tutta la sua grandezza. e da qui usciamo dall'incantesimo di portare su di noi le dinamiche della mamma, ma guardiamo la realtà, la mamma è forte a sufficienza per portare queste dinamiche e quindi le lasciate uscire e le lasciamo andare alla mamma. E poi dite a vostra mamma, mamma, per me, tu non hai più bisogno di competere con nessuno per l'amore della tua mamma. E fate uscire anche questo dal cuore e lo lasciate andare lungo le generazioni e dite ognuno è libero di essere amato per ciò che è. E ognuno è libero di amarsi per ciò che è. Elga, a un certo punto ho sentito il battito del cuore e mi sono emozionata nel sentirti parlare con il creatore. Grazie Elga. Possiamo parlare tutti con il creatore, sai? Proprio tutti. Non è un caso se dopo vent'anni di lavoro in ambito sociale proprio ora ho deciso che è giunto il momento di fare altro. Eh Barbara, infatti non a caso. Mi sono sentita un peso, che un peso allo stomaco era andato via, infatti. Anche se non c'è più. Certo Enza, anche se non c'è più. Guardate che le persone che non ci sono più hanno molto voglia di sganciare le loro dinamiche perché vogliono fare un percorso verso la luce molto veloce e magari non hanno ancora risolto e quindi non sono ancora entrate nella luce piena. Non sto parlando del mondo spirituale dove c'è già la luce. Nel Teta Ealing il mondo spirituale viene chiamato il quarto piano di esistenza dove le persone che sono trapassate fanno un loro percorso di conoscenza e sono già nella luce. Io sto parlando proprio di alcuni defunti che fanno fatica ad entrare nella luce perché hanno ancora degli risolti su questo piano e alcuni sono nella nostra linea genetica certo perché non si sono sentiti amati perché sono stati abbandonati perché hanno avuto dei grossi problemi con i loro familiari e il nostro compito se vogliamo è quello di risolvere questa cosa di lasciarli andare di non portarla più noi di ridarla ai diretti interessati fargli vedere la verità delle cose e rilasciare questo grande amore della famiglia che prima era bloccato e poi diventa un amore disponibile per tutti quindi è un grandissimo lavoro che noi possiamo fare un lavoro molto forte Patrizia ha avuto brividi in tutto il corpo sì Patrizia infatti questa cosa è ritornata indietro dove doveva essere quindi sicuramente tu sarai molto molto più serena molto più libera da questa dinamica grazie Daniela Caffarri il cuore batte forte forte dopo questo esercizio bene sono molto contenta Federica la mamma non c'è più da 16 anni mi manca tantissimo so che mi sta aiutando comunque al papà ma non riesco a sciogliermi in che senso non riesci a scioglierti Federica che cosa vuoi dire con la domanda Erika grazie a te alcuni sono preoccupati per noi ci stanno accanto ancora vero Sara eh sì certo Elga però guarda c'è differenza nel senso che allora quelli che sono nella luce non è che sono preoccupati si occupano magari di noi si occupano quando noi abbiamo bisogno ma in realtà sono impegnati a fare tutto il loro percorso che è un percorso molto importante è un percorso che viene fatto in un'altra dimensione ma è un percorso nella luce dove si impara dove si acquisisce conoscenza quindi sono tranquilli e sereni non è che si preoccupano si occupano è diverso si occupano quando c'è bisogno quelli preoccupati che ci stanno accanto e hanno questo pathos emotivo che è difficile che è difficile che è complicato e quindi hanno tutte queste emozioni che non sono emozioni di luce che non sono emozioni di fiducia quelli non sono ancora nella luce quindi bisogna che noi ce li mettiamo davanti e gli diciamo che va tutto bene e andiamo a vedere come mai sono preoccupati molto probabilmente hanno qualcosa di risolto con i loro genitori non con noi e allora bisogna tornare un po' più su nelle generazioni un po' più indietro e andare a vedere la preoccupazione qual è la verità su questa preoccupazione forse non sono preoccupati con noi ma forse c'è qualcosa che gli manca non sanno che cosa gli manca non se lo ricordano più e allora gli facciamo voltare verso le loro madri verso i loro padri e gli facciamo dire mamma e papà ho bisogno di te e gli facciamo tornare verso le loro madri di modo che non stiano più attaccati a noi ma che vadano nel loro luogo giusto a risolvere le loro cose del cuore che non ci riguardano Enzo io sono l'unica che ci sto lavorando e ho fatto anche le costellazioni familiari perfetto io ho fatto tanti anni di costellazioni familiari con Bert Ellinger e tutt'oggi le faccio le insegno e sono meravigliose meravigliose allora Federica non riesco ad abbracciarla a parlare di emozioni quindi non riesci ad abbracciare scusami il tuo papà e parlare di emozioni con lui allora ma il tuo papà che non riesce ad abbracciare a parlare di emozioni con te è lui che non è stato abituato dal suo papà a parlare di emozioni e ad essere abbracciato e quindi ti tiene un po' lontana metti un muro con te Federica allora che cosa puoi fare verso il tuo papà tu lo puoi guardare senza dirglielo puoi dirglielo anche con la voce ma lo puoi fare anche parlando anima ad anima puoi guardare il tuo papà e gli puoi dire caro papà ti amo infinitamente così come sei ti amo anche se non sei capace di abbracciarmi ma lo so che dentro di te hai una grande nostalgia di essere abbracciato e io abbraccio proprio questo di te la tua grande nostalgia e la metto nel cuore e la lascio sciogliere dentro di me e se tu volessi fare qualche cosa di veramente coraggioso un giorno quando lo senti giusto nel cuore potresti appoggiare la tua testa sulle sue ginocchia e dirgli caro papà e vedrai che lui ti metterà una mano sulla testa dipende come uno si lascia prima che trapassino Paola ma ti assicuro che anche quando sono trapassati li puoi sentire nel cuore è la stessa identica cosa vivi e trapassati ci possiamo toccare lo stesso e tutte le emozioni che avevamo prima non preoccupatevi non perdete la speranza non pensate mai che non gli avete detto che non avete fatto che avreste voluto che non c'è stato tempo non pensate mai questo vedete nelle costellazioni si fa con i rappresentanti qualcuno rappresenta la persona che non c'è più e ci si abbraccia e così ci si saluta e ci sono tutte dei movimenti da fare molto belli molto meravigliosi e scusate molto meravigliosi forse non si dice meravigliosi e delle parole da dire che non ci non ci siamo detti e si può sempre recuperare non c'è spazio tempo luogo non c'è età non c'è dimensione che separi dall'amore se non delle dinamiche allora anche tu con Berte esperienza meravigliosa Carolina infatti penso che mio padre si porta dentro questo fatto di sminuire proiettando su di me ma io dal mio conto dovrei recidere il cordone umbilicale e non lasciarmi ferire Carolina è lui che è stato sminuito un giorno potresti dirgli sai papà io sono convinta nel mio cuore che tuo padre ti apprezzava su serio questa frase potrebbe essere una frase di grande guarigione per tuo padre Elga la mia mamma è accanto a me la sento sto facendo di tutto per tranquillizzarla dille di andare dalla sua mamma dille che non è perduta che il suo posto è tra le braccia della sua mamma cara Elga Federica anche io non ci riuscivo però un giorno le ho detto Berte dopo tre mesi mi è mancato ah che meraviglia Giuseppina hai fatto una grande guarigione e lui è andato proprio perché si è risolta questa cosa credo che sia proprio questo motivo anche di mio marito e i suoi genitori certo sei fantastica grazie Federica come si fa a sentire riconoscere i mai nati li si richiama gli dà innanzitutto un nome una mamma sa sempre se il proprio figlio è maschio o femmina quindi voi sapete tranquillamente se le persone che sono i vostri aborti erano maschietti o femminucce e gli date un nome e gli dite mi dispiace mi dispiace ma tu la vita la mia vita non è la stessa con te scusate sto confondendo perché perché si gli dite la mia vita non è la stessa senza di te ma tu sei sempre nel mio cuore e per un qualche mese li portate in giro e gli fate vedere la vostra vita io li sto perdendo e mi paura spero che alcune parole vengano dette sia da me che da mia madre ok bisogna che capisci quali sono queste parole questa è la cosa più importante se non riesci a dirle scrivile su un foglio scrivi le parole belle e le parole brutte perché anche le parole brutte devono essere dette forse il problema è che c'è poca comunicazione si aspetta che sia sempre l'altra persona a fare il primo passo è vero questo come dicevamo prima che aspettiamo sempre siamo nell'attesa che arrivi finalmente la mamma a dirci quanto ci ama e facciamolo noi con noi stessi Giuseppina di a te stessa quanto ti ami fai tu la tua mamma di tu a te stessa quanto ti ami e Daniela perché piango sempre con te Sara anche io piango da sola anche io piango con me a volte quando faccio le meditazioni o quando il creatore mi suggerisce certe frasi mi viene da piangere mi commuovo e dico ma io mi faccio sempre piangere Rita io ho una dinamica conflittuale con mia figlia ok tua figlia sta interpretando un ruolo di una donna che è venuta prima di te e che ha ancora tante cose da dire quindi prova a metterti davanti tua figlia ma non lei prova a chiedere in una meditazione chi stai rappresentando e la metti davanti e dimmi quello che hai bisogno di dirmi allora Elena mio padre immobile a due settimane non parla fatica ad aprire gli occhi solamente qualche piccolo cenno con la testa io gli dico che gli voglio tanto bene lo accresso gli do un pochino di acqua con un cucchiaino insomma è diventato mio bambino è una pena lui con me non è mai stato tanto tenero non so se lo faccio per obbligo o per amore cara lo fai per amore nessuno per obbligo dà un cucchiaino di acqua piano a piano a una persona e questo è l'amore dei bambini noi i nostri genitori li amiamo a prescindere sia che siano stati bravi o sia che non lo siano stati e questa è una verità assoluta noi li amiamo a prescindere una persona un po' di tempo fa mi ha detto io non amo i miei genitori non è vero non è vero più noi pensiamo di non amarli e più li amiamo di un amore infinito a volte disperato perché ci sentiamo di non essere stati amati ed è questo un gap di amore che può essere assolutamente ricostruito le ferite possono essere ricucite io amo mia mamma ma lei è sempre in competizione con me su qualunque cosa prima mi arrabbiavo ora la guardo e sorrido mi sembra una diana che è davvero buffa ma mi spiace per lei perché capisco che non è in grado di andare oltre già non è in grado di andare oltre probabilmente è qualcosa molto vecchia che lei si porta dentro potresti andare a vedere che cosa Valentina grazie che bello vedere anche te sì è vero anche quelle brutte ce n'è tante di brutte Paola per questo te l'ho detto è molto importante poter dire anche quelle brutte se non volete dirle di persona ditele in un contesto in un contesto riparato dove non fate del male a nessuno ma è importante che escano Paola dal tuo sistema la verità deve uscire non tenerla dentro mi hai fatto commuovere grazie anch'io mi sono commolsa Giuseppina l'ordinaria Sara grazie Ilaria tanto amore Daniela come posso superare i conflitti con i miei fratelli grazie allora come posso superare i conflitti con i miei fratelli è una cosa molto particolare che mi è arrivata riconoscendo che siete tutti diversi che siete tre persone completamente distinte che hanno modi diversi di pensare modi diversi di affrontare le cose siete tre individui non siete una cosa sola e non è detto che dovete andare per forza d'accordo forse riconoscendo che non dovete andare per forza d'accordo il conflitto si calma si calmerà ognuno di voi è una persona ognuno di voi deve fare la sua strada lasciatevi liberi Valentina io ho difficoltà nei rapporti con le amiche o d'amore perché a volte mi aspetto lealtà o troppo che fare Valentina io direi che devi pensare un po' di più a te stessa perché mi arriva che forse le tue amiche o l'amore in realtà ti vuole bene ritira come dire le aspettative le proiezioni ritirale e stai con te stessa e fai qualche cosa di bello da sola fai qualche cosa di bello portati a fare le gitte portati al mare fai tutte le cose che avresti voluto fare da piccolina e che hai fatto fatica a fare la donna prima di me potrebbe essere mia madre avevo con lei un rapporto conflittuale ma nell'ultimo periodo della sua vita tutto si è risolto solo amore infinito tra noi rita sai che non mi ricordo più la domanda non me lo ricordo rita scusami perdonami io ho perdonato i miei bene sono molto contenta manuele che c'è sempre bravissima grazie manuele grazie mille energeticamente bene grazie grazie davvero tantissimo grazie a voi allora ragazze sono le 10 e un quarto quindi abbiamo finito la diretta volevo dirvi che con voi è sempre bello chiacchierare e ringrazio tutti Federica Olivatti certo che mi puoi conoscere certo ci possiamo sempre conoscere io abito a Milano comunque allora ringrazio tutti tutti quelli che Katia che è così paziente con tutti e fa un lavoro molto 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 importante per noi e grazie Gaetano che ha creato un portale meraviglioso è stato un grandissimo progetto ed è bellissimo ah sì allora sì potrebbe essere Rita ecco infatti no 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 Daniela ti voglio tanto bene prossima diretta di Sara mercoledì 12 alle 21 grazie sei unica grazie 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 ti amoro anch'io ti amoro anch'io Barbara grazie lei è fantastica buonasera carissima benissimo ragazzi sono tanto contenta grazie a tutti voi che aprite il cuore e riusciamo a parlarci con questa profondità mando una guarigione di amore incondizionato chiediamo al creatore a tutte le nostre famiglie perché possano guardarci con benevolenza possano ricevere la vita e guardare con benevolenza alla guarigione e alla vita stessa e chiediamo che il creatore insegni a noi stesse e a tutte le nostre famiglie la capacità di ricevere l'abbondanza l'amore la fiducia e la gioia del creatore di tutto ciò che è con grazie e facilità per il nostro bene supremo grazie fate 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 mostrami grazie bene buonanotte ragazze dormite bene anche a me piace ti amoro dormite bene e fate tantissimi bei sogni ciao ragazze alla prossima ci vediamo il 12 e lunedì per la ah no lunedì questo no giusto ragazze scusatemi lunedì non ci sono o sì boh non mi ricordo più vabbè se ci sono ci sono le 13 se no niente vi ringrazio e e buonanotte ciao ciao ragazze ciao 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 ciao